Ben ritrovati gentili amici, come sempre vi raccomandiamo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto. Non era un nuovo scontro tra Juventus e Milan, o meglio, non era uno scontro diretto, ma entrambe chiedevano molto da questo sabato 11 novembre. Ovviamente partiamo cronologicamente dalla sfida di via col mare dei Lecce, dove il Milan ottiene soltanto un 2-2 dopo essere passata in vantaggio per due reti a zero con il solito Giroud e soprattutto con una solo di Renders, che dopo aver segnato il 2-0 sfiora per ben due volte il colpo di KO senza trovarlo. Una partita che va un po' all'incontrario rispetto a quella di parecchi anni orsono, dove fu Lecce andare avanti 3-0 per poi vincere il Milan 4 reti a 3. In questo caso andato avanti il Milan ha rischiato seriamente di perdere, perché dopo la rimonta a Salentina dovuta anche all'ingresso di Sansone. Sansone che ha un po' una tradizione che richiama un proverbio, quando entra Sansone più che morire i filistei muoiono, potremmo dire, tutti gli avversari, perché Sansone in un certo senso cambia l'inerzia, complice un Milan che secondo me è più stanco di testa che non fisicamente dopo l'impresa col Paris Saint-Germain e il Milan rischia seriamente di passare da 2-0 a 2-3. Viene annullato il gol della vittoria del Lecce all'ultimo minuto per un fallo precedente al gol. E quindi il Milan che viene salvato, viene graziato, Pioli sicuramente sulla graticola, in questa settimana di pausa si parlerà moltissimo e non credo che succeda nulla, al massimo ci sarà l'arrivo di Ibrahimović, ma non in sostituzione di Pioli, ma nello staff dirigenziale, però sicuramente, come diceva il buon Enzo Iannaci nella sigla della Domenica Sportiva 1983-1984, sono convinto che domani in banca se ne parlerà, non so se in banca, al bar, dove volete voi, ma sicuramente si parlerà di questo Milan che alterna veramente gli arcobaleni a dei momenti di un grigiore assoluto, come nel secondo tempo di Lecce. Ripeto, il Milan poteva chiudere la partita, non lo ha fatto e si è ritrovato con due punti di meno. Viceversa continua la marcia dell'inguardabile Juve di Allegri, mi verrebbe da dire così, anche se chiaramente chi vince e chi ottiene i risultati merita il massimo rispetto. Juventus che nel primo tempo, dopo una partenza, i primi dieci minuti in cui ha cercato di giocare alta, di tenere il Cagliari sotto la linea della palla, si è lasciata un po' andare e grandi occasioni non ce ne sono state, anzi, forse ad onor del vero, l'occasione migliore ce l'hanno proprio i sardi di Sir Claudio Ranieri. Nel secondo tempo la Juve invece ingrana una marcia superiore, non possiamo dire che metta il turbo perché vorrebbe dire non essere onesti intellettualmente e da calci piazzati, tutti e tre i gol arrivano da calcio piazzato, trova i gol prima con un bello stacco di testa di Bremer, molto bravo il brasiliano nell'angolare il pallone e metterlo alle spalle di scuffette e poi il doppio corrocambolesco dopo una serie di rimpalli, i cagliaritani protestano per un fallo di mano che non c'è di Rugani che tocca il pallone due volte con la pancia e con il petto, mi sembra di ricordare Dante con Farinata e si ergeva col petto e con la fronte, in questo caso con la pancia e con il petto e poi il Cagliari sempre su un calcio d'angolo a trovare il gol che dimezza il punteggio per poi colpire un palo clamoroso con il quale sfiora un pareggio che probabilmente non sarebbe stato giusto. Juve che secondo me merita questa vittoria, Juve che non gioca bene ma riesce nel suo obiettivo tra la trasferta di Firenze e la partita casalinga col Cagliari, cioè quello di presentarsi al big match dal 26 novembre con l'Inter con solo due punti di distacco e quindi potenzialmente anche per provare un clamorosissimo sorpasso.